Devi stare comoda per poter lavorare. E' una candela che si è avvita. Mi devi spacchettare come una caramella. Io sono una caramella, il centro della caramella del nodo è questo qui, che devi cercare di trasformare. E i fiocchi sono i piedi e la testa, quindi devi spacchettarmi. Sì? Sì. Sì. Ok. Adesso lo devo fare anche dall'altro lato? No, vieni dall'altro lato. Lo fai dall'altro lato. Perché lui quel corpo ha bisogno di simmetricare. Ok. Ehm. 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 Scusate. Se ti facessi la foto adesso, così con le ali, sarebbe la perfezione della via. Guarda, è proprio lei. Tu che fai così? Ehm. Anzi, questa, questa configurazione la chiamiamo col tuo nome Elena. ho la formazione Elena. Ehm. 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 Adesso. 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 Adesso, per me. Adesso mi facciamo il mio cuore. adesso tu provalo tu